Nome. Giulia. Francesca. Atleta o coach? Atleta. Coach. Cosa fa un coach in Se Scout? I lavori. Si diverte insieme ai ragazzi. Ti piace di più la pasta o il riso? Pasta. Carbonara. Quale sport fai in Se Scout? Nuotta. Tutti. Nuotta. Di dove sei? Nel mio paese. E dov'è il tuo paese? L'Astra. Di Cabras. Dimmi un po', qual'è il tuo più grande desiderio? Zinastica. Diventare una brava coach in Se Scout. Fai una smorfia? Sei fidanzata? Ma sì. Con chi? Non me lo ricordo. Francesca, tu te lo ricordi? Forse. Mare o montagna? Mare. Mare. Sai preparare un'insalata? Sì. E un piatto di pasta? Sì. E sai fare una torta? Sì, con crema e cioccolato. Sì, so fare tutto. Fai un urlo. L'ultima volta che sei uscita con le tue amiche? Con Adolfo e con Giada. Quando? Giovedì. Ho perso il conto, un mese fa. Hai una disabilità? Eh, a voglia. Quanti anni hai? 21. 29. Gli anni veri, Francesca? 29. Cosa fa un atleta in Se Scout? Secondo. E? Secondo in merenda. Secondo in merenda. Si diverte, fa un sacco di esperienze bellissime. Sai nuotare? Sì. Sì. Stile. Stile d'orso. L'ultima volta che hai fatto una puzzetta? Prima sul divano. Il tuo amico preferito? Il tuo amico preferito? E la tua amica preferita? Adolfo. Il tuo atleta preferito? Le Giulia. Qual è il tuo coach preferito? Greta. Il più simpatico? Andrea Mereo. Andrea Mereo. Perché è quello che deve montare l'intervista. Esatto. Il coach più severo? Hai capito come. Cristian. Il più matto? Andrea Mereo. Andrea Mereo. Un atleta con cui andresti in vacanza? Con Isabella. Sempre Giulia. E un coach con cui andresti in vacanza? Greta. Mara. Dimmi un motivo per cui dovrei essere un Se Scout? Dovrei fare un vacanza e essere cattolta. Perché Se Scout fa la differenza. L'ultimo film che hai visto? Solito i gignotti. Ma che io? Non lo so, non è la televisione. Non mi dici qualcosa? Nella televisione. Dimmi un motivo per cui vorresti andare via da Se Scout? Non ci ha detto. Perché si fanno troppe puzzette. Il tuo animale preferito? Le Sì. Le Sì. Cane. Ora, ditemi un po' tra voi due. Chi è la più bella? Io. Giulia. Il più simpatico La troveremo La più intelligente Non sei di Francesca Giulia La più paziente Francesca Chi è la più monella Francesca Francesca, dimmi un prezzo di Giulia Solare È un difetto È vanitosa La cosa più strana che hai fatto in Sea Scout Vacanza Sì, ma sono caduta a vacanza Mi hanno raccontato di una scarpa lanciata Ma non l'ho vista Ragazzi, per ora grazie Grazie di essere in Sea Scout Salutatemi E datemi appuntamento in Sea Scout Ciao Ricky Mi raccomando Vieni in Sea Scout Perché qui ci divertiamo Vero Giulia? Sì Ciao Giulia Grazie di questa intervista Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti